E allora, ciao. Chi è? Controllo. Qua sono. A posto? Il signore chi è? Un mio amico. Favorisca i documenti, per cortesia. Guardi che posso ricevere. Non mi faccia perdere tempo, che c'è il collega che mi aspetta in macchina. Documenti. Sei incensurato, no? Certo, perché? Molta tanto che mi viene a trovare qualcuno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, Gioia. Che ci fai qua? Eh, si è rotta la tubatura dell'acqua e non si poteva lavorare. Allora, ho fatto la spesa e sono tornata. Arrivederci. Ma speriamo di no. Scusa, ma non era... No, poi, Gioia, non capisco. Perché ti arrabbi con i poliziotti? Quelli sono gli unici che ti vengono a trovare. Come gli unici. Ma perché non gliel'hai detto? Che cosa? Eh, sono gli arresti domiciliari. Ma se ti ho incontrata per strada? Non c'avevo un permesso per fare un esame. Non ha passato l'esame, ma si è trovato un fedanzato. Scusi, ma... Per essere la prima volta che esce di casa, ho una buona media, ho un uscito un fedanzato. Ma non deve essere stato così difficile. Ma lo sai, mamma, dove antipatica? Avevi ragione. L'espressione proprio che... Ma non era morta. Sì, comunque tu me lo dovevi dire. Per quale reato, scusa? Rapina. Rapina? Bello. Rapina a mano armata, aggravata e continuata. Pure. Ale, perfetto. E certo che mi preoccupavo. Ti sembra uno che va in giro con i banditi? Hai ragione, Gioia mia. E che devo dire io che me la sono dovuta mettere in casa? Senta, signora, non è che possiamo fare il pari con me e lei. Lei è la madre, io l'ho conosciuta stamattina a mezzo alla strada. E lo dice pure. Vabbè, io vado via. Antipatica proprio. Quanti anni ti mancano ancora? Un paio d'anni.